E ciao a tutti e chiunque, voi siate benvenuti di nuovo su GCDC, l'episodio 4. Oggi abbiamo dei giochi molto particolari, appartenenti a un tema mai portato sul canale, ovvero FNAF. Oggi abbiamo, oltre a un altro gioco, The Glitched Attraction. È una demo, quindi non sarà completa. Mi sembra un gioco fatto molto bene, quindi probabilmente morirò subito. Perché io sono scarso. Proviamo. Ho la torcia. Scomparsa la torcia. Allora mi devo muovere, che cos'è? Devo guardare qui alla finestra e chiudere le tende come? Non fa. Beh, forse sarà dopo. Ok. Quindi devo... E entrare in una tuta. Ma non c'è una tuta. Probabilmente comparirà quando arriva Nightmarion. Ok. Premi spazio per bloccare e sbloccare gli Springlocks. Ok. Bene. Come si fanno le cose? Ok, qui si tiene premuto. No, però questo non va bene. Io come faccio a capire quando c'è... Ok. Dov'è la tuta questa? Allora, aspetta. Ora si apre questo monitor, chissà da dove... Dov'è arriva questo coso? Andiamo. Non posso salire sul letto, no? Boh. C'è un gancio magico. Allora, analizziamo la stanza. Quindi qui ci sarà Balloon Boy. Probabilmente dovrò flasharlo. Qui c'è un interruttore, un armadio molto susso, una grata. In realtà questo gioco io l'ho già visto giocare. Ma non mi ricordo che cosa si doveva fare. Qui forse c'erano delle chiavi, se non sbaglio. Vediamo. Indaghiamo. Eh no, eh. E infatti questi cosi si aprono. Di già? Di già? E niente. E va bene. Allora, non entrava nella tuta. Cerchiamo di capire come si entra nella tuta. Inizia ad arrabbiarmi. Perfetto. Inizia. Inizia. Allora, cerchiamo di capire come... Come si entra qui. Come si entra. Non si entra. Ci sono anche... Balloon Boy si era mosso. Perfetto. Come si entra? Nella tuta. Ma... Non entra. Non entra. Non entra! Non entra! Non entra! Non entra! Non entra nella tuta! Non entra nella tuta Sto qui nascosto Non entra nella tuta Va bene, ok Ah, devo guardare la tuta e tenere premuto Ah, vabbè, ma allora è sentice Ma dillo prima L'aveva detto prima Vediamo, proviamo Ma ci vuole un sacco Anche per toglierla Ciao No Iniziano già ad esserci freddles Troppi freddles Cerchiamo di capire Sto mettendo la tuta Perfetto, ce l'ho addosso Qua il signore Sono un po' arrabbiato Ok, sta arrivando Nightmarion Mettiamocela addosso Però la toglie La toglie da sola Allora, iniziamo Quindi Cerchiamo di infilare questa tuta Ah, si fa così Ok Via Cosa sono? Che cos'è? Che cos'è? Allucinazioni pazzesche E' normale che tu sia lì? Non era normale No, mi sa che è normale Tu? Bene Dice il puzzle Ma mi sa che non Cioè non ho le capacità Sii Che sei andato tu Perfetto Perfetto Cerchiamo di capire Come Si fa Eh si Ciao Non ce la farò mai Devo controllare troppe cose Ce l'ho Cerchiamo di fare questo coso Più in fretta possibile Di nuovo Fredbear non c'è E ma qua il signorino Si sta agitando C'è ancora Se n'è andato Disattivato Non credo di farcela Mi sta salendo un po' l'ansietta Fredbear ride No Non l'ha messa Non l'ha messa Non l'ha messa Quindi si inizia 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 Allora iniziamo fin da subito a fare questo coso Iniziano già i freddels Dove sono? Qui E anche lui inizia però Se la toglie Battene Fantastico Finito Perfetto Perfetto Di nuovo Arriva Di nuovo Sto odiando Nightmarion Ok Allora cerchiamo di Risolverlo il prima possibile No No Si stava attivando Nightmare Balloon Boy Lui se n'era andato Ma mi ha ucciso lo stesso Ultimo tentativo Però il gioco l'ho capito E' bello Questi pazzi furiosi Partono subito E non hanno uno schema fisso Non ho sbagliato a premere Ok Ce l'ho fatta Ti prego Vattene Se n'è andato Lui però E' un bru Ok Si ma qui è tutto scombinato Neanche una cosa al giusto posto Ricontrolliamo Se n'è andato Sì Probabilmente Nightmarion Tornerà a momenti C'è uno strano Eccolo 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 Sbrigati Ok Bene Sono andando abbastanza bene Ok Lui si stava attivando Ok Fa un suono Quando se ne va Ci sono un po' di freddo Il sco in giro Nightmarion Vattene via Ti prego Questo è storto Penso di averlo fatto Penso di averlo fatto Ok Solo che mi ricordo C'erano anche altre cose Da fare Ma Tipo c'erano delle chiavi Ma non ne sono sicuro Nightmare Fredbear Se non c'è ancora No Ok Sbrigati Che succede Che succede Che succede Prossimo gioco Cos'è? Ah parte così C'è fin da subito I pulsanti I pulsanti Si sono rotti Scusa come va davanti Si sono rotti i pulsanti Ah no niente Scherza vero Io che non so Camminare Ok quindi in generale Questo è un FNAF Però In free roam Sì come si spegne Allora intanto Voglio capire Se si possono Usare Le porte Ma non penso Vediamo Uh Uh la la Ma si attivano poi? Ma come tieni il microfono Freddy Scusa Ma non ha la mano No Freddy non ha la mano Ok allora Esploriamo Questa porta si apre? Non si apre Ma si trapassa Nel frattempo Il fungi parla Ma Qui c'è un buco Ma Ma in questo buco Posso entrarci? Perché questa stanza È completamente vuota? Allora mi ricordo Che nella prima notte Di FNAF 1 Gli animatroni Iniziavano a camminare Dopo che il fungi Aveva finito di parlare Aspetta andiamo a vedere Se c'è la safe room Era da questo lato O dall'altro? Dall'altro Penso No No Che fastidio Che fastidio Nero e nero Bianco e bianco Che fastidio Ma io ti denuncio Ma questo è succo di frutta No In realtà Sembra olio Forse whisky Non so Mi sembra una bottiglia Di whisky Però ha i colori Del succo di frutta Che carino Il cupcake Ma ha degli occhi Enormi Tututururururututururuturututuruturuturuturuturu Allora guardiamo un po' la zona E anche gli animatroni Che Dobbiamo vederli un po' meglio Ma l'hanno fatti molto bene Tranne la mano di Freddy Che cos'è questo Questa roba Si può anche vedere l'endoscreto dentro Carino Molto bello Ma voi vi muovete o state qui fermi? Secondo me stanno lì fermi Allora il Fongai ha finito Quindi a breve si dovrebbero muovere Ma io ho un orario, ho qualcosa Che cosa posso fare? Il Fongai finiva di parlare alle tre Ah, sono salito qui Il Fongai finiva di parlare alle tre Ed è un bel po' che aspetto Secondo me sono circa le quattro Bonnie dovrebbe essere già In piedi Dai ti prego non dirmi che non fanno niente No aspetta, devo andare a vedere Come si Volevo il menu Wow Ok Allora ho scoperto che quel gioco Non aveva intelligenza artificiale Quindi chiaramente non potevano Muoversi Sì ma che casino Crasciato? Crasciato? E' crashato? Ok, space Ok 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 Alquanto interessante il fatto Fattaccio Che inquietudine Stavolta si chiudono le cose Ok No però io voglio esplorare Buongiorno Buongiorno Si vede proprio parecchio eh Ah Oh Allora a parte che se usi i modelli digimod Hai dieci punti in meno Ma che pose sono queste? Ma chica che ha dentro la bocca? Ma che ha chica in gen- Ma che hanno tutti in generale? A parte che freddi ha gli occhi rosa e non- Allora qui c'è una porta Che porta a una stanza orribile! Orca miseria Perché hanno tutti gli occhi rosa? E queste ombre hanno parecchi problemi Comunque posso correre Questo è una buona cosa C'è un generatore Va bene Quindi quello mi serve per Mettere altra energia Al mio ufficio Capisco Io voglio vedere gli animatroni Che movimento però Ma la tenda di Foxy Ma è fatta di legno dentro? Oh oh Sento rumori Sento rumori Sento dei passi Ok Quindi Non iniziate a muoversi Bene Bene Molto bene Sento passi vicini Oh qualcuno bussa la porta Apriamo Oh Eccolo Ma come si muove Ma che animazioni brutte sono Oh no Oh no Oh no No Mi hanno cerchiato Ah niente Un'altra volta Chi è che butta le sedie Mi hanno buttato tutte le sedie Ma che schifo Che gente orribile Ah no ma sono io Che le Sono io che le faccio cadere Sono sul tavolo Mi possono prendere sul tavolo Penso di no Voglio vederli Dato che sono sul tavolo Voglio vederli attivare Oh Si è attivato Mi prende Si mi prende Proviamo la notte 5 Quasi impossibile Vabbè si sente Quando iniziano a camminare Perciò Ecco Hanno iniziato Perfetto Dov'è? Non lo vedo Oh oh Mi sa che Mi sa che Mi ha visto lui però Mi ha visto lui Mi ha visto lui Mi ha visto lei Mi ha visto lei Riproviamo Com'è che si è già attivato? Oh no Mi sono incastrato Mi sono incastrato Mi sono incastrato Mi sono scal- No Corri 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 No E qua E qua Corri e chiudi Bene Ce l'ho fatta Bene Ce l'ho fatta Fantastico Come sei brutto Perché apri la bocca così? Chiudi No Ok E questo è impossibile Hanno ragione Oggi Abbiamo visto Dei giochi davvero belli Uno Era impossibile L'altro Non funzionava E un altro Era impossibile Bene La mia solita fortuna Come al solito Questo è GCDC Quindi voi Dovete consigliarmi i giochi Quindi scriveteli sotto Nei commenti Vi ricordo anche che Tutti i giochi che avete visto Saranno in descrizione Quindi noi Ci rivediamo A un prossimo video Ciao Connection terminated